Ci sarà la presenza però nella nostra, esattamente come nella Kings League, del dado. Il dado però, a differenza della Kings League, che viene buttato al diciottesimo minuto, noi lo utilizzeremo nei minuti di recupero, sia del primo tempo che del secondo tempo. Vi spiego com'è il dado. Si gioca 7 contro 7, si lancia un dado all'interno del campo, nei minuti di recupero esce l'uno e gli allenatori dovranno scegliere chi tenere in campo uno contro una squadra. Esce il due, due contro due, tre contro tre e via dicendo. Ogni allenatore e ogni presidente avrà a disposizione da un mazzo di carte, che vi daremo due carte da pescare, una per squadra, che sono diciamo o dei bonus o dei bonus. O dei bonus, o di giocare in uno in più, adesso vedrete e potete comunque leggere il regolamento che c'è all'interno del sito, ma vogliamo tenere qualcosa ancora nascosto.